A pagare sono i napoletani che dicono quando finirà questa sera. Vi prego, basta. Noi lavoriamo, non ci fermiamo. Non ci fermiamo, andiamo avanti. Il sindaco ha una parola sola. Ovviamente i patti li devono rispettare entrambi e il presidente non può non rispettare l'impegno preso. Quindi noi lavoriamo senza polemiche, senza cadere in provocazioni, testa bassa, carte a posto, interesse per la città, non ci interessano altre cose.